Sì, sicuramente partecipare al Giro E è una bella esperienza perché ti permette di vivere da vicino il Giro d'Italia dei professionisti, comunque di vedere posti stupendi, di fare salite che tutti conoscono, quindi credo che sia una bella iniziativa. L'anno scorso ho già partecipato a due tappe e credo che anche quest'anno sicuramente non a tutto, ma qualche tappa la farò anch'io. Grazie a tutti.